Sì, era importante farsi trovare pronti e noi siamo sempre qua ad aiutare chi ha più bisogno, cercando di dare una piccola mano comunque. Sì, come anche l'anno scorso sarà un incontro gradevole, il calcio femminile comunque è una realtà che sta prendendo piede in tutte le società sportive, sono molto entusiasta di questo perché anche le donne si stanno affacciando al mondo del calcio ed è un grande traguardo questo perché vuol dire che il calcio appassiona davvero tutti. Sì, diciamo che è un bel titolo e abbiamo fatto una gara come quelle che sono state anche le altre, purtroppo siamo usciti solo con un punto dalla gara di Pisa ed è un grosso rammarico vista la molle di gioco che la squadra ha prodotto e le occasioni prodotte dalla squadra. È un grande rammarico uscire con un solo punto però ci fa ben sperare per il futuro. Sì, noi teniamo sempre i piedi per terra perché è giusto che sia così, anche perché il campionato è molto ostico e difficile e non vogliamo fare voli pindarici e doverci fasciare la testa poi in seguito. Siamo felici di questo anche perché sì, il gruppo è unitissimo, i ragazzi hanno fatto un gruppo meraviglioso ma già dall'anno passato, poi sono riusciti ad amalgamare il tutto con i nuovi arrivati e hanno fatto un gruppo solido. Per quanto riguarda la società è sempre la stessa da anni, con qualche new entry però diciamo che è una società a conduzione familiare quindi è obbligo andare d'accordo. Assolutamente sì, perché noi vediamo lo sport magari, siamo abituati a vedere lo sport soltanto come gioco, come divertimento ma lo sport in questo caso rappresenta un ineguagliabile canale comunicativo. Quello che l'associazione Nicol Ferrari fa è operare nel sociale in virtù di un messaggio che ha dato la persona a cui è dedicata l'associazione, che era anche mia sorella, che donando i suoi organi ha regalato nuove prospettive di vita a quattro persone. Quindi l'associazione scende nel sociale per rivolgere il proprio sguardo, la propria attenzione a quelle che sono le disabilità, quindi le persone che hanno bisogni particolari. Per cui questo Memorial, che è la seconda edizione, questa volta alza un po' il tiro e attraverso questo canale comunicativo come il calcio si è proposto di presentare in via ufficiosa ovviamente, perché c'è una bozza di un progetto, alzando un po' il tiro all'amministrazione comunale, di un parco giochi inclusivo per ragazzi diversamente abili che sarà quindi uno spazio di aggregazione in cui i giochi saranno furibili contemporaneamente sia dal ragazzo normodotato che dal ragazzo diversamente abile. Noi l'abbiamo visto un po' come contenitore questo parco perché all'interno ci sono due altri percorsi, non meno importanti ovviamente, uno è un laboratorio di teatro inclusivo che sarà diciamo curato dall'associazione Controtempo Teatro di Andrea Giuda e Roberta Moscò. È un laboratorio di arte creativa manipolativa proprio per quel senso di inclusione e integrazione e abbiamo chiesto la disponibilità al maestro Michele Affidato che si è reso disponibile. Il Cosenza è la prima volta che lo invitiamo e quindi speriamo nel proseguo di avere altre iniziative a cui possiamo ovviamente invitare il Cosenza e che accetti di buon grado come ha fatto subito in questo caso. Il Crotone spendo due parole perché sulla sensibilità e la disponibilità del Crotone si dice sempre tanto e non si dice mai abbastanza perché il Crotone oltre alla disponibilità che ci dà dell'impianto, della struttura mostra verso queste iniziative veramente un'indiscussa sensibilità. Il Catanzaro è diciamo, prima parlavo dicevo di quel rapporto che è lo sport, lo sport e soprattutto amicizia. Tanti dovrebbero capire che dietro il calcio di un pallone si può regalare un sorriso, si può trovare un sorriso. Il Catanzaro calcio femminile rappresenta un po' in toto questa cosa perché è allenata da mister Tato Sabadini che è stato, io mi pregio l'onore di aver giocato anche con lui, quindi questa storia che dura in modo trentennale anche di amicizia e solidarietà. Grazie a tutti.